Non cessano le polemiche sull'obbligatorietà del Green Pass, soprattutto nelle mense aziendali, per cui solo nei giorni scorsi gli stessi sindacati, se dapprima rassicurati circa la sua esenzione, poi successivamente colti di sorpresa dalla FAC del governo, in cui ha risposto confermandola. Ecco che così si è aperto il dibattito tra le figure aziendali e le associazioni di categorie e di sindacati che invocano alla maggiore chiarezza normativa. In questo scenario si inserisce il commento del Presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiai, che dichiara in una nota La tutela della salute dei lavoratori e la prosecuzione dell'attività delle imprese sono priorità su cui non si può temporeggiare. Per questo condivido e sostengo la posizione del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi sulla necessità di aggiornare i protocolli per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro. Il Green Pass si sta confermando uno strumento efficace per uscire dall'emergenza. La sua applicazione nelle aziende abbatterebbe i rischi per la sicurezza dei nostri collaboratori garantendo continuità al lavoro, salvaguardando la ripartenza. Sin dall'inizio dell'emergenza, nel suo momento più drammatico, le imprese si sono sedute al tavolo con le altre parti sociali e hanno sottoscritto un protocollo di intesa per stabilire le necessarie misure a tutela della salute. Il passo successivo sono stati gli hub vaccinali, ha ancora spiegato Marsiai, aperti in tutta Italia, per mettere in sicurezza i dipendenti. Anche l'Unione Industriale di Torino ha dato il proprio contributo realizzando un centro vaccinale a disposizione dei lavoratori e delle aziende associate. Oggi la campagna vaccinale procede bene e questo è un buon segnale, ma non possiamo restare fermi ad aspettare rischiando di compromettere gli sforzi di quest'anno. In attesa che il Governo adotti una normativa chiara, dobbiamo tornare a quel tavolo e continuare a lavorare insieme, tracciando un percorso comune per garantire la prosecuzione delle attività produttive in sicurezza. È una nostra responsabilità, ha concluso il Presidente dell'Unione Industriale di Torino, nei confronti del Paese.